Oggi è il 28 ottobre 2015, tra quattro giorni di 40 anni fa Casolini veniva assassinato a libro Stalo di Ostia e io ora sono a Cesarza della Galizia per un convegno dedicato a lui di fronte alla sua tomba dove è sepolto insieme e accanto alla madre. In questo luogo ci sono delle brevi considerazioni che mi vengono in mente su di lui, sul modo in cui rimane attuale e inattuale oggi, ovvero molti che si accostano alla sua opera lo fanno o estremizzando gli aspetti della sua analisi sociologica e entropologica che ovviamente c'è, che ruoti intorno a alcune parole chiave come ad esempio genocidio culturale o mutazione antropologica e così via, oppure accentuando la parte stilistica e poetica della sua opera. Però io credo che focalizzarsi su un corno o sull'altro del suo discorso senza avere un quadro coerente d'insieme significhi non capire appunto la totalità di quello che ha detto e che ha fatto. Ovvero, certamente c'è un'analisi sociologica e antropologica in lui, ma che tipo di analisi è? È un'analisi poetica nella quale lui non fa altro che narrare un evento di un altro tipo di uomo. Per più che il cambiamento della società, il cambiamento dell'uomo presente, una specifica società, è la sua morte. Lui per trent'anni non ha fatto altro che narrare la propria morte. E perché narrava la propria morte? Perché la scomparsa di quella società, la scomparsa di quel tipo di uomo determinava l'avvento di un altro tipo di società, di un altro tipo di uomo, per lui disgustosi e con i quali non valeva la pena di avere a che fare di vivere all'interno di quella società e a fianco di quegli uomini. E quindi la sparizione della società e dell'uomo precedente è in realtà la sua sparizione. Perciò lui sta narrando la sua morte. Quello che ci resta di lui quindi è sicuramente questa analisi sociale e antropologica che prova intesa come un canto di trent'anni della propria morte e credo che non fargli torto significhi non solo riconoscere questa completezza della sua opera ma anche cercare di andare avanti e vedere come ora siamo noi oggi in un'altra fase, nonostante siano pochi anni che ci dividono da lui, ma già in un'altra fase di quella stessa società, cioè un altro tipo di mondo, ovvero in quel mondo che non ha più bisogno di uccidere gli artisti perché è già un'altra fase, un altro mondo, ovvero quel mondo che semplicemente non permette più che nascano artisti.